benvenuto a questa pratica di yoga e pilates fusion inizi ti siedi sui talloni sulle ginocchia o in su casa la schiena è dritta e trova il respiro inspira ed espira profondamente e sei libero di scegliere respirazione ujjayi oppure la respirazione del pilates e mantieni il respiro lungo e profondo sempre in questa posizione inizia a far fare dei grandi cerchi alle spalle aprendo il petto più che puoi ruota le spalle indietro e ruota le spalle avanti schiena dritta nel respiro e ora allunga le braccia verso l'alto inspira palmi uniti sopra la testa e espira torna lentamente allunga la colonna inspira palmi uniti sopra la testa e espira torna e inspira sali palmi uniti sopra la testa e torna incrocia le mani dietro incrocia le dita e palmi uniti apri il petto la schiena è leggermente inarcata mentre respiri apri il cuore ancora se vuoi lasci la testa indietro se non hai male al collo allunga le braccia e inizia a scendere nel bambino ma stai con le braccia in allungamento poggi la testa respira e torna risali apri il petto e di nuovo scendi torna poggia la testa allunga le braccia avanti respira e vieni nel bambino in allungamento cammina avanti con le mani poggia la fronte le mani aperte più o meno quanto i lati del materassino cammina avanti con le mani allungando la colonna allungando la schiena e poi poggi la mano destra sulla sinistra quindi allunghi prima un lato mantieni respira e cambio l'altro lato mano sinistra sulla destra torna al centro vieni quadrupedia spalle mani in linea ginocchi a fianchi in linea curva la colonna dentro l'ombelico e quando inspiri invece vieni nella mucca apri il petto testa su spingi il sacro verso l'alto curva la colonna dentro l'ombelico guarda l'ombelico e inspira apri il cuore espira curva la colonna muovi la colonna con respiro e ancora curva ancora in arca e apri il cuore e schiena neutrale dentro l'ombelico nascondi la coda immagina di avere la coda tra le gambe la nascondi quindi rotazione del bacino stendi la gamba destra fianco sinistro ginocchio sinistro in linea e avvicina il ginocchio alla fronte due volte inspira stendi se vuoi allunghi anche il braccio opposto due volte chiudi inspira apri e chiudi chiudi inspira apri e chiudi chiudi curva la colonna inspira chiudi chiudi stendi allunga inspira inspira e spira continua ancora rimani gamba su e giù sempre ginocchio sinistro e fianco sinistro in linea oppure anche il braccio opposto puoi scegliere la tua opzione e spingi torna piedi a terra vieni plank alto e ora piedi uniti e allontani piedi piedi uniti e allontani mentre tieni plank alto addome attivo e gluteo attivi spalle mani in linea forti le braccia e le spalle fai questa camminata sul posto apri e chiudi apri e chiudi mantieni plank respira non collassare vieni cane a testa in giù allunga bene la colonna spingi fianchi verso l'alto se vuoi simuli una camminata e torna plank alto scendi chaturanga ispira cane a testa in su allunga il collo spingi indietro le spalle apri il cuore respira e torna nel bambino in allungamento fronte a terra cammina avanti con le mani respira lungo e profondo il respiro torni quadrupedia stendi la gamba sinistra e quindi fianco destro e ginocchio destro in linea mano destra a terra o allunghi il braccio e apri inspira e chiudi chiudi e espira stendi chiudi chiudi stendi chiudi chiudi sempre dentro l'ombelico addome attivo e nascondi la coda posizione del pilates rotazione del bacino chiudi chiudi stendi chiudi chiudi stendi stendi rimani e molleggia grandi molleggi col braccio e la gamba o solo con la gamba e fletti il piede a terra stendi anche l'altra gamba plank alto e ora con la mano destra vai a toccare la spalla sinistra con la mano sinistra la spalla destra mantieni plank alto cerca di rimanere immobile con il corpo dommio attivo glutei attivi e rimani plank respira e cane a testa in giù se vuoi simuli una camminata mentre respiri allunga bene la colonna e le gambe scendi plank e chaturanga vieni cane a testa in su apri il cuore allunga il collo verso l'alto e torni nel bambino respira cammina avanti con le mani oh bambino rilassamento braccia indietro vieni sui gomiti e stendi le gambe vieni nel delfino come cane a testa in giù ma sei sui gomiti non poggiare la testa e anche qui puoi simulare una camminata sul posto spingi i fianchi verso l'alto forti le spalle pianta bene i gomiti incrocia le mani avanti e scendi plank basso sui gomiti e ora torna nel delfino inspira espira plank sale il bacino inspira espira scende il bacino glutei attivi addome attivo continua il movimento ti muovi col respiro il corpo è forte in controllo e il controllo viene dal centro dal core inspira espira vieni plank e ora scendi prima con un fianco e poi con l'altro verso il basso sempre plank sui gomiti glutei attivi addome attivo resisti ancora e siediti sui talloni torna nel bambino respira bambino in allungamento o in rilassamento puoi scegliere se in rilassamento braccia indietro rilassi le spalle se in allungamento cammini avanti con le mani non perdere il respiro mi raccomando rimani nella pratica rimani nel respiro e torna quadrupedia punta i piedi cane testa in giù cammina con i piedi fino alle mani vieni in uttanasana afferi i gomi ti rilassi la testa tra le braccia ti dondoli da un lato all'altro respirando rilassi la parte superiore del corpo rilassi le braccia e lentamente risali vieni tadasana nella montagna inspira palmi uniti sopra la testa espira scendi uttanasana ardhattanasana stendi la colonna guarda avanti inspira spira uttanasana srotolando risali inspira palmi uniti e espira scendi al cuore palmi uniti al cuore rimani senti il respiro nel corpo e vieni nella sedia ti siedi poggia bene il piede allunga le braccia verso l'alto con controllo vai a sederti a terra e vieni nella barca allunga le braccia avanti apri il petto stendi prima una gamba e poi l'altra si vuoi un piede lo poggi a terra e l'altro stendi la gamba oppure piedi sospesi mi raccomando schiena dritta addome attivo e petto aperto stendi prima una gamba poi l'altra continua afferra un ginocchio scendi e schiena a terra porti il ginocchio alla fronte cambio stendi una gamba e poi l'altra porta il ginocchio alla fronte e poggia bene zona lombare bene schiena a terra appoggia la testa afferra le ginocchia recupera respira respira se vuoi ti dondoli da un lato all'altro e afferri un ginocchio per risalire stendi le gambe in avanti poggi le mani sotto le spalle punta i piedi avanti e sali col bacino attiva i glutei dentro l'ombelico apri il petto piega un ginocchio stendi la gamba e torna cambio piega l'altro ginocchio e stendi la gamba e torna ancora stendi piega e cambio piega stendi occhio occhio non collassare glutei attivi addome attivo rimani mantieni respira piega le ginocchia vieni nel ponte e sali il bacino e scendi spingi il bacino verso l'alto e scendi sempre addome attivo e glutei attivi senza far toccare i glutei solamente sfiorano e mantieni secco un tavolo la linea perfetta se vuoi lasci la testa indietro altrimenti guarda l'ombelico respira ancora mantieni e recupera schiena a terra afferra le ginocchia portali al petto afferra il ginocchio per risalire ripetiamo punte di piedi avanti piedi uniti mani sotto le spalle e sale il bacino spingi il bacino verso l'alto addome attivo glutei attivi piega prima una gamba e stendi piega e stendi e poi l'altra piega stendi piega stendi mi raccomando sempre glutei attivi addome attivo piega stendi piega stendi rimani mantieni respira apri il cuore spingi i fianchi verso l'alto piega prima un ginocchio poi l'altro rimani nel ponte al contrario nel tavolo mentre sali e scendi col bacino sale il bacino e scende sali scendi e mantieni attiva il glutei dentro l'ombelico respira se vuoi testa indietro oppure guarda l'ombelico e torna srotola terra ginocchio al petto dondola ti da un lato all'altro lungo e profondo il respiro rimani gambe a tavolino tutta la schiena a terra allunga le braccia indietro inspira e espira sali inspira indietro e sali zona lombare attaccata al pavimento inspira e espira sali inspira e sali espira ancora e indietro inspira e sali e sali inspira indietro e sali e rimani mani dietro la testa poggia la testa a terra la testa a su piedi uniti gambe tese scendi e sali con le gambe non scendere troppo lombare attaccata al pavimento respira apri bene i gomiti piedi uno e torna ginocchio al petto tondola ti da un lato all'altro recupera e respira apri le braccia apri le braccia lateralmente poggia bene le spalle apri i piedi come il materassino e le gambe scendono lateralmente la testa guarda al lato opposto twist della colonna rimani respira e cambia lato torna torna al centro affera un ginocchio e sali Vieni su casa, la gambe incrociate, allunga le braccia verso l'alto e inspira e quando espiri ti apri lateralmente e twist. Guarda dietro schiena dritta e petto aperto, respira. Lungo e profondo e respiro. Torna al centro e inspira, espira, cambio, twist all'altro lato, schiena dritta, petto aperto, guarda dietro. Torna al centro e inspira, sali, allungati, espira, appoggia le mani avanti, cammina avanti più che puoi con le mani, ti fermi al tuo limite e respiri lì. Se ce la fai, poggi i gomiti, se ce la fai, poggi anche la fronte. Ancora un paio di respiri profondi, cammina avanti con le mani, ancora un millimetro, due. E lentamente srotola e tre respiri profondi, inspira, palminiti sopra la testa, schiena dritta, espira, fuori tutta l'aria. Inspira, inspira di nuovo, allungati più che puoi verso l'alto, mantieni, schiena dritta e fuori tutta l'aria che hai. E l'ultimo, il più profondo, inspira, sali, allungati, mantieni, respiro dentro, allungati ancora. E rilassa la postura, fuori tutta l'aria. E grazie per questa pratica insieme. E grazie per questa pratica insieme.